Crutch Mindset. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Torna la nazionale femminile a giocare a rugby. E questa notte per i super appassionati, per gli esploratori del web, perché andava comunque cercata con con accuratezza questa partita, non era semplice vederla. Per i per chi non ne può proprio fare a meno, la nazionale italiana femminile giocava il suo primo test match nel cammino di avvicinamento al mondiale. Perché sì, mancano 75 giorni. 75 giorni e inizierà l'evento femminile dell'anno, sicuramente il mondiale in Nuova Zelanda. Italia, la prima partita con gli Stati Uniti. Allora, ho detto, era un po' per i super appassionati, per i nottamboli, per gli ossessionati del rugby, tra cui, come ben sapete, ci sono io. E allora, ragazzi, se non l'avete vista, non vi preoccupate, perché l'ho vista per voi. L'ho vista per voi e adesso ve la racconto. Scusate un po' per questa voce nasale, scusate se magari tossirò, starnutirò, eccetera, eccetera, ma sono un po' raffreddato. Non so se per via dell'aria condizionata, del coso, comunque fatto sta che sono un po' raffreddato e quindi c'ho sta voce che quella che è. Allora, innanzitutto iniziamo dal risultato. È finita 34 a 24 per il Canada. Il che ha l'apparenza, e non solo l'apparenza, potrebbe essere anche un risultato interessante per l'Italia, perché, come ci piace a noi in questo canale, sempre per mettere prima di tutto in contesto le cose, il Canada era favorito. Il Canada era favorito, il Canada è la quarta forza a livello femminile mondiale, almeno questo ci dicono le quote dei bookmakers per quello che riguarda il campionato del mondo in Nuova Zelanda. Favorita numero uno l'Inghilterra, numero due ancora le Black Pearls, forse anche dovuto al fatto che si giochera in casa questo campionato. Io non sottovaluterei, ovviamente, la Francia. E la quarta favorita è proprio il Canada. L'Italia arriva a qualche gradino sotto. Eccolo qua, è arrivato il primo colpo di tosse. Allora, come però è andata la partita? Come è andata la partita al di là del risultato finale? L'Italia dimostra subito la volontà di provare ad uscire con il pallone in mano di Gian Domenico. Ha parlato nel post partita di una necessità di trovare delle soluzioni anche meno dispendiosi di energie per uscire dal proprio campo. E allora ogni tanto si può attaccare col pallone in mano, però la prima cosa che ci viene in mente è il discorso dell'utilizzo del gioco al piede. Un settore dove l'Italia ha ancora tanto tanto da lavorare. Comunque all'inizio l'Italia dimostra subito la volontà di provare ad uscire con il pallone alla mano, perde però il possesso. E il primo possesso, la prima visita e il primo vantaggio territoriale è del Canada. Quindi il Canada gioca dieci minuti nel nostro campo e poi riesce alla fine a concretizzare questi dieci minuti di vantaggio territoriale nel nostro campo con una meta a largo, muovendo il pallone a largo da mischia. Occhio perché l'Italia non abbassa le braccia e subito dopo, mentre il Canada ci mette dieci minuti per segnarci una meta, l'Italia invece ci mette una ventina di secondi, perché direttamente con un'azione individuale pregevole di ostuni minuzzi dal calcio di invio scappa l'estremo azzurro e abbiamo quindi subito la meta. Un possesso per il Canada lungo dieci minuti, un attacco diretto dal calcio di invio concretizzato con una meta per l'Italia, una marcatura testa. E allora tocca al Canada in questa alternanza dei possessi. La risposta arriva direttamente dal Canada e poi l'Italia di nuovo. La seconda meta del Canada con un passaggio, anche lì giocando nei cinque metri, con un passaggio a largo, situazione che l'Italia copre in maniera non proprio perfetta. L'avevamo visto anche nei sei nazioni, lo rivediamo nella partita di ieri. Il Canada si mette lì, è una meta abbastanza facile nei nostri cinque metri. E poi l'Italia, quindi una volta il Canada, una volta l'Italia, una volta il Canada e una volta l'Italia. Italia che passa i secondi venti minuti del primo tempo tutti in campo canadese. Italia che però non sembra trovare facilmente delle soluzioni di attacco, anche perché la difesa canadese è molto solida, però non demorde. E questo è uno degli aspetti positivi della partita delle ragazze. Non demorde dopo moltissimi tentativi, tra cui anche un paio di chip kick, uno di Rigoni, uno di Madia, eccetera, eccetera. E dopo un ultimo possesso lunghissimo, non ricordo quante fasi, ma veramente molto lungo, l'Italia non demorde e proprio alla fine del primo tempo riesce a segnare e andare al riposo sul 12 pari. Neanche male. Neanche male quello che abbiamo pensato in diretta guardando la partita. Riguardandola stamattina, ne parliamo dopo. Vediamo quello che è funzionato e quello che non è funzionato. Ne ha parlato anche di Gian Domenico. Nel secondo tempo il disastro, tra virgolette, era un test match. Però l'Italia perde la partita nei primi dieci minuti del secondo tempo. Entra in maniera molto caotica. Il primo possesso dell'Italia lo buttiamo via con un calcetto dietro la difesa, non proprio eseguito benissimo da Silleri. Una scarsa difesa sulla protezione del contrattacco. Transizione. Il Canada porta la palla fuori. L'Italia fa fatica a difendere. Commette una prima penalità. Ne commette una seconda. Le canadesi si trovano, in men che non si dica, sui cinque metri. Tush, Moll e Meta molto easy. Si riparte e direttamente dal calcio d'invio, la prima centro, Sara Caliuvì, distrugge letteralmente tre placaggi. Se avete maniera di andarvi a cercare gli highlights, lo vedete, è veramente impressionante. Distrugge tre placaggi, quindi anche qui un errore della rete dell'Italia che non può farsi rompere al primo contatto, però va dato merito anche alla prima centro canadese, perché è veramente, veramente bestiale in quell'azione e riporta il Canada nei 22. Cosa succede? L'Italia ha la possibilità di fare un dropout dalla propria linea di Meta. Dropout che va direttamente fuori. Errore grave di Beatrice Rigoni. Mischi in mezzo ai pali e sette punti facili per il Canada. Quindi l'Italia che ci aveva messo 20 minuti per costruire quella meta del pareggio, in otto minuti butta tutto alle ortiche. Prima con quella appunto meta semplice causata da un paio di penalità e poi con quest'altra meta anche questa semplice, anche perché poi da quella mischia è molto semplice la segnatura del Canada. Tutto il lavoro fatto nel primo tempo, seppur con varie imperfezioni nel primo tempo, è buttato comunque alle ortiche in otto minuti. Si bravura loro, però tante disattenzioni nostre, tante disattenzioni nostre. E se vogliamo andare a competere con una squadra come il Canada, non ce lo possiamo permettere. Ricordiamoci che troveremo il Canada nel girone dei mondiali. Oh, attenzione, qualcuno dirà, eh ma come Danilo non puoi criticare le ragazze della nazionale femminile, fanno anche troppo rispetto alle loro possibilità, bla 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 bla. Sì, è vero, però io parlo di rugby qua nel canale parlando di rugby. Quindi parliamo di rugby, di azioni, di tattica, di strategia, di esecuzione tecnica, di giocatrici, di giocatori e secondo me questa è la maniera migliore per rispettare al meglio anche il rugby femminile. Poi è ovvio che le giocatrici dell'Italia femminile fanno tantissimo rispetto al alla situazione nella quale si trovano. Occhio perché lì la partita che sembra che stia per sfuggire di mano, appunto otto minuti veramente da rivedere, in più le canadesi iniziano ad usare il piede e sembrano avere un miglior kicking game delle italiane. E qui però, quando tutto sembra scivolare dalle mani delle ragazze di Di Gian Domenico, accade una cosa buona. Anche con il caldo aumenta il numero degli errori del Canada e l'Italia ha un sussulto di orgoglio. Non cede quando sarebbe stato facile cedere, quando tutto lo avrebbe fatto pensare. Questa cosa l'avevamo vista anche nei sei nazioni. Se c'è una cosa che non manca e non è fare retorica e analizzare le partite alle ragazze di Di Gian Domenico e il carattere e l'orgoglio. Quindi buona aggressività difensiva, quantomeno sul pallone, perché poi ci sono alcune delle cose da rivedere nel riposizionamento e nel come si esce a largo, però quantomeno sul pallone. Buona aggressività difensiva, spesso e volentieri alle gambe. E Rigoni questa volta ripara un po' degli errori fatti con un bel timing, con una bella esitazione, apre il gioco all'ala. L'Italia trova l'inerzia, prima rompendo la linea e poi andando a segnare una bella meta sui cinque metri. Bam! L'Italia c'è, l'Italia non è morta. Però, proprio di nuovo, quando bisogna rimettersi in partita, quando bisogna provare a girarla questa partita, riniziamo con l'indisciplina. Vero crucio di questa partita. Riniziamo con l'indisciplina, l'Italia rinizia a commettere falli e di nuovo il Canoda e arriva velocemente nei cinque metri, too small e altra meta semplice. Attenzione, l'Italia in questa partita concede tutte meta relativamente semplice. Non tanto l'arrivare a realizzarla, ma poi la conclusione è sempre sempre troppo semplice da parte del Canoda. E anche qui uno direbbe, vabbè, adesso sì che vogliamo Irene in barca, adesso sì che è finita. Invece, nonostante tutto, di nuovo l'orgoglio delle ragazze di Gian Domenico. L'Italia non si arrende, si rimette in campo canadese, touch sbagliata del Canada nei cinque e meta di Elisa Giordano in pick and go. Mancano cinque minuti e l'Italia è a meno sette. L'Italia è ancora a meno sette. Quindi, occhio, Canada, quarta potenza al mondo, ce l'abbiamo nel gruppo, arriviamo agli ultimi cinque minuti a meno sette. Questa è un'indicazione anche di presa di coscienza di quali sono magari le possibilità delle ragazze italiane e dove stanno i limiti delle ragazze italiane. Perché, ripeto, il Canada dovrebbe essere l'avversario più dure che abbiamo nel girone. E arriviamo a meno sette a cinque minuti. Ragazze, non dimenticatevelo. però poi, proprio quando avremmo potuto forse provare a giocarci le ultime carte, di nuovo concediamo una penalità ingenua, molto ingenua, nel non rotolare via da una situazione di placato placatore. Anzi, invece di rotolare, proprio passeggiamo via, uscendo da quel breakdown e il Canada chiude in mezzo ai pali. Meno dieci. Per la mole delle imprecisioni e degli errori fatti, mi viene difficile dire bene. Anche se forse prima dell'inizio della partita, non dico che avrei firmato per una sconfitta di dieci punti, ma mi sarei immaginato una partita molto solida da parte delle Azzure nel riuscire ad arrivare a meno dieci all'ottantesimo con il Canada. E invece, e questa è una buona notizia, c'è molto, moltissimo margine di miglioramento. E allora, proviamo a vedere come giudicarla questa partita. Se dobbiamo trovare gli aspetti positivi, i primi due sono quelli che abbiamo citato. Il carattere. Sia nel primo tempo, con quella metafina partita, quei venti minuti di possesso nel loro campo, l'Italia si intestardisce e arriva fino in meta. Sia in quei due momenti, dove risorgiamo dalle ceneri, come la Fenice, nel secondo tempo, quando la partita ci sembrava sfuggire di mano. Quindi bene dal punto di vista del carattere. Bene anche dal punto di vista di alcune abilità individuali. Abbiamo comunque tenuto testa al Canada, nonostante una partita costellata di imprecisioni, e sono spiccate alcune abilità individuali. Mi viene in mente, ad esempio, la capacità di portare il pallone in avanzamento di giocatrici come Tunesi, come Bettoni, come Turani, contro un Canada solido, molto solido fisicamente. Oppure, ovviamente, la meta di Ostuni Minozzi. E poi, la difesa aggressiva, mi sono impappolato, perché ho detto la meta di Ostuni Minozzi, ma mi sono confuso con i nomi, e Ostuni Minuzzi. Ok, scusate ragazzi, mi sembrava il mago Minozzi lì, in quell'azione. Poi, alcune abilità individuali, l'abbiamo detto, altre cose andate bene, la difesa, abbastanza aggressiva, anche se con molte cose da migliorare, difendiamo bene dal 2, dal secondo dopo il post, al 4. Cioè difendiamo bene sul pallone, però facciamo fatica nel salire forte con i post, e restiamo, secondo me, un po' troppo indietro, un po' troppo sconnesse, fuori, e forse per paura che il Canada portasse il pallone a largo, ma soprattutto, soprattutto la circolazione difensiva di chi arriva dal lato chiuso. Lì bisogna lavorare, secondo me, molto, molto, molto di più. Si creano troppe sconnessioni. Bene, quindi queste le cose che sono andate bene. Dove si può migliorare? Sicuramente la disciplina. Questa partita, l'Italia, non dico che l'ha regalata, perché il Canada si è dimostrata una squadra ancora più solida dell'Italia, però troppe penalità concesse, e soprattutto troppe penalità gratuite, dove non vai a guadagnare nulla al concedere quella penalità. E hanno influito molto sulla battaglia territoriale, nonostante poi il Canada non abbia neanche approfittato troppo con il piede, però siamo lente spesso e volentieri nel rialzarsi, nel riposizionarsi, e non reattive nella circolazione difensiva. Un'altra cosa, che però bisognerebbe essere lì, bisognerebbe capirla, mi avventuro un po' in un terreno scosceso, è che mi è sembrato che ci fosse una comunicazione un po' nervosa tra le ragazze. Occhio, è solo una sensazione, magari va tutto per il meglio, però a volte sembrava che non sapessero bene quale scelte prendere. E visto che è un periodo dove sono riunite fuori, lontane da casa, e questo periodo sarà molto lungo, anche pensando poi in futuro al camp del Mondiale, staranno tanto tempo assieme, è necessario a parer mio trovare una comunicazione serena, lineare, lineare, chiare in campo, con delle scelte abbastanza precise, dove non ci siano 5-6 ragazze che vanno lì a dire la loro su tutte le scelte, magari anche facilitata dallo staff tecnico, che gli dia proprio delle indicazioni chiare su cosa fare in alcune situazioni standard. E poi, altra cosa che si può migliorare, la difesa a largo nei 5 metri. Abbiamo preso delle mete soft durante i 6 nazioni in quella situazione, ne abbiamo preso altre due. Ieri, chiaro, è la situazione più difficile da difendere, però non possiamo permetterci che quando arrivano nei 5 metri loro portano 5 giocatrici dal lato aperto e noi rimaniamo tutte sul lato chiuso e poi basta un passaggio e arrivano in bandierina senza doversi nemmeno tuffare. L'avevamo già vista nel 6 nazioni questa cosa. Occhio, bisognerebbe lavorare un po' su questa cosa qui. E poi, un po' troppi errori di manualità. Direte, facile Danilo per te da casa tua. Certo, facile, è molto più difficile in campo, ma un po' troppi di errori di manualità che assieme alla disciplina, in una partita contro il Canada sono tutti quei 10 punti di differenza che ci sono tra le due squadre. E infine, una cosa su cui io batto sempre con le squadre che alleno io, quando guardo le partite, sempre, sempre, sempre l'urgenza. in occasione della seconda meta che prendiamo ci fanno un grabber ed è evidente come tutte le ragazze che arrivano dal lato lontano dal pallone non provano nemmeno a correre, camminano, camminano proprio. Se voi guardate quell'azione le vedete proprio camminare. Cosa succede? Che poi riusciamo a recuperare, le portiamo nei 5 metri, in situazione che già facciamo molta fatica a difendere, però poi se arriviamo molto lente su quel punto lì, beh, allora diventa impossibile difenderla a quell'azione. Quando c'è un gioco rotto che vuole l'urgenza di attaccare sia in difesa che in attacco quello spazio lì. Non è un momento dove si può stare lì a camminare guardando il pallone. È il momento dove bisogna fare quello sforzo in più, dove bisogna accelerare. Ripeto, facile da qua, facile da qua. Molto più difficile dal campo. Un ultimo appunto per la mischia. La mischia ha funzionato o no? Una via di mezzo. Perché io onestamente mi aspettavo un Canada che ci distruggesse in mischia. Bastava anche solo vedere le proporzioni fisiche tra la loro pilone sinistra e la nostra pilone destra. Sembrava il contrario, sembrava che la nostra fosse un sinistro. O era veramente, veramente molto differente. E invece l'Italia ha sofferto, ovviamente, in alcune situazioni, però ci sono state delle sensazioni interessanti. La mischia italiana è riuscita in qualche maniera a dove non arrivava il fisico, ci è arrivata in alcuni casi con la tecnica, con il carattere, quella battaglia psicologica, anche andando lì nel primo tempo a spostarli i capelli, a non farsi condizionare. Una mischia che ha voglia di farsi sentire, sulla quale si sta lavorando probabilmente bene. Abbiamo quello che abbiamo, sia a livello di fisicità che ha a livello poi eventualmente anche di cambi. Però, però, ha dato una sensazione positiva. E se si può arrivare a non dare quel vantaggio psicologico a una squadra come il Canada, io credo che poi nel gruppo del Mondiale, con gli Stati Uniti e col Giappone, ce la si può allora giocare anche sotto quel punto di vista. ragazzi e ragazze, se avete visto la partita, ditemi cosa ne pensate, se no spero di essere riuscito a darvi qualche sensazione di quello che è successo questa notte. È il primo, è il primo di un cammino che proseguirà poi con i test mess con la Francia e poi ovviamente si arriverà al Mondiale. Per il resto, ne parleremo giovedì anche con Lorenzo Ciri nella solita live dedicata al rugby femminile. Fischio finale, un grande, grandissimo bacio come sempre. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e a presto. Ciao.